Federico Rossi, avete perso 3-0 con Luis Fiammenga, che partita avete giocato? Poi ho visto molti new entry? Eh sì, purtroppo oggi, purtroppo, insomma, abbiamo fatto ricorso alla panchina perché siamo in un momento un po' sfortunato dal punto di vista di infortuni, di assenze, molte, per noi importanti. Beh, si sono accavallate in questa parte iniziale della stagione, speriamo di recuperarla il più presto e di tornare tutti in campo con la massima convinzione. Intanto oggi abbiamo fatto debutare in Serie C altre due ragazze del Vivaio, spero che sia un'esperienza che possa tornare stimolante per il loro avvenire sportivo. E adesso? E adesso pensiamo a Umberti della settimana prossima, speriamo di recuperare un paio di infortuni in settimana per presentarci più competitivi di quanto non fossimo oggi. Francesco Fogu, allenatore della Luis Fiammenga, vinto 3-0 contro il Città di Castello, che partita avete giocato? Beh, l'importante è il risultato, poi non abbiamo giocato, diciamo, al massimo delle nostre possibilità come abbiamo fatto le altre due partite. dove c'ero io. Però, ecco, l'importante è vincere questa partita, in trasferta, un po' in difficoltà, siamo complicati un po' la vita a noi, però insomma, alla fine è andato bene, tre punti che erano importantissimi per la classifica. Adesso? Adesso c'è Gubbio, ci proviamo per fare sto sgambetto al Gubbio, ci proviamo, ecco, chiaramente la squadra prima in classifica, chiaramente c'è perché è una squadra forte. Però in casa non sta magari, ci proviamo, ci proviamo, adesso prepareremo la prima partita, ci proviamo sabato alle 6 a vincere questa partita, ci proviamo. Grazie. 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 Grazie.